Due ore di musica e spettacolo scanditi da oltre 25 successi, così Emma Marrone ieri ha festeggiato all'Arena di Verona i 10 anni di carriera insieme a tanti ospiti molto speciali, tra cui Loredana Bertè. Vediamo con Carola Carulli. Un bilancio super positivo, sinceramente. Perché la realtà ha superato tantissimo le aspettative e i sogni che avevo da ragazzina. Ho sempre voluto fare questo mestiere, non ho mai cercato un piano B. Le cose sono andate e stanno continuando ad andare molto molto bene e spero di avere ancora tanto da dare al pubblico. Un vero e proprio sciocco con Emma a raccontarsi e a raccontare anche il brano cantato con Loredana Bertè, la sua mamma rock. Credo profondamente che se oggi noi donne, noi artiste, possiamo fare determinate cose sul palco, atteggiarci in un determinato modo, è perché lei è stata la pioniera, no? È stata la prima vera grande combattente che ha un po' sbaragliato tutti i pregiudizi e giudizi. Sono veramente onorata di cantare questa canzone insieme alla mia mamma rock. Speranza è un nuovo inizio per tutti noi, è possibile sì, con la musica a farcelo davvero pensare e lei a ricordarcelo insieme al suo entusiasmo mai così sentito. Grazie!